Ammiro la bravura del dentista, una delle sue bravure, di cui non si parla mai, la prontezza, mentre intento al lavoro di cura preciso e attento, concentrato sul dente, di ritrarre velocissimo la mano a un minimo segno di spargo della gola, a un possibile colpo di tosse, perché il trapano riparatone non si trasformi in pugnale rotante, non porti sanguinanti ferite. Somigliante abilità ci giova in altri campi, ma immaginate voi, io sono stato di analogie, di simboli, di acute metafore. Mi voglio due uova da aggiungere a tre foglie di insalata nel silenzio internale della casa.